Benetetta Parodi sbaglia la ricetta della maionese, gaffia Domenica in Benetetta Parodi vittima di una figuraccia durante lo show cooking. Il successo delle sorelle Parodi continua a non decollare a causa dei pochi ascolti durante il loro domenicale sulla Rai. Questa volta, però, Benetetta Parodi è stata vittima di una spiacevole gaffe che le ha fatto fare solamente brutta figura. A quanto pare, nel momento dello show cooking la Parodi ha deciso di preparare una ricetta detta sua semplice e veloce della maionese, trovata sul web. Nonostante sembrasse inizialmente molto fiera della sua ricetta, Benetetta ha dovuto affrontare l'incredibile delusione. Davanti al disastro ottenuto, lei stessa ha esclamato, È impossibile che non mi venga, mi viene sempre. È impossibile, porca miseria. . La Rai si affida allo zecchino d'oro per risollevare lauditel. . Se sa che le sorelle Parodi non stanno riscuotendo troppo successo, da tempo si parla infatti di una sospensione del programma. . Intanto, dal 19 novembre Francesca Fialdini toglierà un po' di spazio alle Parodi con lo zecchino d'oro, non si sa mai che riesca a risollevare gli ascolti. .